Cari avventurieri, bentornati alla sfida settimanale Questa volta l'avversario che avete di fronte è un forgiato Attenzione, non è un costrutto, è un forgiato Vuol dire un essere meccanico dotato di intelligenza Vi voglio dare una mano L'arma, la vostra arma, la sceglierete voi Però vi darò sempre tre oggetti Da oggi in poi nelle sfide darò sempre tre oggetti oltre all'arma Il forgiato non è dotato di nessuna arma Solo la sua immensa forza Vi trovate dentro un castello E i vostri oggetti sono Una torcia, una bomba rudimentale Potrebbe funzionare come no Dipende da quello che mi scrivete E dell'olio Olio sia per accendere la torcia Che magari per altre utilità che non vi dico Ricordatevi che l'arma la potete inventare voi Ma non magica Mi raccomando, l'arma deve essere un'arma standard Non magica Cercate di sfruttare gli oggetti e il luogo Buon divertimento Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ciao!